Ormai l'Europa è profondamente impotente, c'è la Merkel che tanto da sempre fa quello che vuole, quindi applica la sua dottrina. Gli europei ormai non si fidano più degli stati nazionali e dei governi nazionali, non si fidano più a questi vertici di quello che può adottare un'adottare Europa. Serracchiani, ditelo chiaramente, la Merkel vi dice, tu Italia, tu Grecia, fai gli hotspot, cioè praticamente campi profughi, e siccome voi non vi fidate perché non vi danno le risorse per i rimpatri e temete che poi una volta che l'Italia diventa un enorme campo profugo non ci saranno più le dislocazioni dei profughi, voi non vi fidate e quindi avete rinviato questa decisione. La Merkel vi ha ribacchettato e quindi si tornerà all'ennesimo vertice. È l'Europa impotente, poi quando non difendi i confini ti trovi l'Ungheria di turno che tira fili spinati, tira sui muri e arresta addirittura i profughi, i clandestini, non abbiamo ormai più capito chi passa per questa Europa ormai fuori controllo.